E allora ci siamo, buonasera e benvenuti al castello Branciforti di Racuia. Il premio Sergio Granata ritorna a Racuia nel 2020, è stata questa la location che ha incoronato tutti coloro che si sono distinti nel corso della stagione. Eravamo in pieno Covid e quindi a maggior ragione sicuramente è stata una bella stagione chiusa con la possibilità di avere tanta bella gente, tanta bella gente c'è anche stasera e sicuramente sarà una serata gradevolissima. Direi che comincio con i ringraziamenti così mi tolgo subito il pensiero, un ringraziamento sicuramente all'amministrazione comunale di Racuia che ci ha ospitati in questa serata, naturalmente alla televisione antenna del Mediterraneo e a tutti voi che sicuramente siete presenti qui e avete fatto tanta strada. Come dicevamo è un premio Sergio Granata perché Sergio Granata è stato il nostro direttore che prematuramente ci ha lasciato qualche anno fa e quindi noi abbiamo dedicato questa kermesse finale proprio a lui, lui che sicuramente ci guida dall'alto. Dicevo a microfoni spenti non soltanto Sergio Granata perché io da quando ho iniziato questa cavalcata sicuramente ho iniziato perché questo è il mio paese, il mio borgo quindi a maggior ragione sono doppiamente soddisfatto di avervi tutti qua. Ho iniziato qualche centinaia di metri più sotto e con il nostro registro storico che purtroppo non c'è più e quindi gradirei di fare un grossissimo applauso perché accanto a Sergio Granata c'è Emilio Carullo che sicuramente sarà con noi e ci seguirà per tutta la serata. A proposito di Sergio Granata, il premio lui mi diceva sempre insieme al sindaco Ivan Martella che adesso ricopre questo ruolo ma è stato insieme a me uno di quelli che ha iniziato questa cavalcata, ora mi ha abbandonato perché sicuramente ha tante altre responsabilità e sicuramente tante cose da fare quindi sono rimasto quasi da solo. Emilio diceva sempre dobbiamo fare una top 11, questo era il suo cruccio e noi questa sera gliela dedicheremo questa top 11 perché tra tutti questi premiati in base alle votazioni, chi avrà preso più votazioni sarà inserito in questa top 11, ho creato una squadra a trazione anteriore e quindi sicuramente cercheremo di fare più gol possibile, quindi saranno dei momenti toccanti, non c'è la moglie stasera, mi ha scritto un messaggio, ve lo leggerò più tardi sicuramente, Maria Rita ci teneva tantissimo ma non sarebbe stato facile. Ma bando alle chiacchiere, siamo a Racuia, un paesino, un borgo da 650 metri sul mare, tra il mare e soprattutto l'alta montagna, tante bellezze, lasciando stare il sottoscritto ne abbiamo tante altre, due sono qui stasera e ve li presento subito, Fernanda e Giuliana. Allora, Fernanda e Giuliana che sicuramente sono alla prima esperienza con me e quindi tra le tante bellezze ho detto mettiamo in mostra anche le nostre belle ragazze. Giuliana è figlia d'arte ma di un calciatore dilettante ma soprattutto di un grande cantante, mentre lei è nipote d'arte perché ai tempi della, quando non c'era l'eccellenza, suo zio giocava nel Sant'Agata nel campionato nazionale di dilettanti che lo si poteva considerare allora Lega Pro, quindi a maggior ragione sicuramente una nipote d'arte. E a proposito di Lega Pro io direi di iniziare subito questa serata con la prima prima azione. Si parla di Lega Pro, noi naturalmente siamo nella provincia di Messina e il secondo anno consecutivo, tribolando, la CR Messina è riuscita a blindare la categoria. Dico che il merito è di tutti ma principalmente a mio avviso colui che è il principale protagonista è il mister Ezio Reciti ed è la prima prevenzione di questa sera. Ce l'abbiamo qui con noi. Stiamo probabilmente vedendo qualche grafica perché abbiamo il monitor, è mister Reciti, ce l'abbiamo qua, l'ho ringraziato. Buonasera mister. Aspetta, dobbiamo avere un gelatino, facciamo tutto in diretta. Allora mister Reciti, buonasera di nuovo. Buonasera, buonasera a tutti. Nel momento in cui ho richiesto la sua presenza, mister Reciti ha subito detto di sì, disdicendo tutti gli impegni perché mi ha detto che è una cosa molto bella essere insignito di questo riconoscimento per una persona che a mio avviso ha detto ha tirato ancora una volta dal baratro la CR Messina. Ma alla fine anche la gratificazione paga, no? a volte gli addetti ai lavori cerchiamo anche questo. Una gratificazione, un premio è sempre importante e riceverlo qui a Messina è ancora più importante. Allora, la motivazione che ho scelto io per mister Reciti è questa perché consegneremo questa pergamena. Umiltà e professionalità fuori dal comune. Compie il secondo miracolo sportivo consecutivo regalandosi e regalando una gioia bianco scudata. Grazie. Insieme al riconoscimento Fernanda consegna anche una abrocca che viene consegnata da parte di uno dei nostri partners commerciali Color Cotto di Santo Stefano di Camastra e quindi è un qualcosa di importante sia il riconoscimento ma anche questo riconoscimento di ceramica. Sembra da dividere con la squadra e con lo staff che sono quelli che poi alla fine ti danno la possibilità di raggiungere i risultati anche con un lavoro scuro che magari è meno appariscente rispetto a quello dell'allenatore. Le faccio l'ultima domanda, non c'è due senza tre? Come stagione sì, come salvezza spero che sia diversa. Allora, quindi possiamo dire ufficialmente... Che sennò si rischia il cuore davvero. Possiamo dire ufficialmente che ci sarà un seguito fra la CR Messina e Dezio Racidi o ancora siamo... No, domani abbiamo l'appuntamento, poi domani si saprà qualcosa di più preciso. Perfetto, benissimo. Naturalmente mi auguro di sì. Benissimo e se lo merita sicuramente. Grazie Mr. Racidi. Grazie. E allora accompagnano le ragazze Mr. Racidi. Mr. Racidi in Lega Pro, una Lega Pro che sicuramente quest'anno non soltanto vedrà il Messina ma vedrà un'altra squadra che praticamente in questo campionato, il campionato appena concluso di Serie D, ha visto una squadra che certamente ha sbaragliato la concorrenza ma tutti puntavano su questa squadra, ovvero il Catania che è riuscito naturalmente a vincere a man bassa questo torneo. Un torneo vinto dal Catania, un Catania che è impegnatissimo in questa settimana e quindi con una mail ci ha detto purtroppo non possiamo presenziare alla Kermesse. Quindi si sono scusati e quindi direi giustificati. Faremo recapitare naturalmente il proprio riconoscimento. Dicevamo non soltanto premiate le squadre che si sono distinte nel corso della stagione raggiungendo gli obiettivi ma come sicuramente buona parte di voi saprete ogni anno noi e il sottoscritto lancia dei contest per premiare anche tutti coloro che individualmente si sono prodigati ed hanno raggiunto degli obiettivi. Quindi per quanto riguarda il campionato di Serie D o Quarta Serie quest'anno abbiamo fatto una cosa diversa. abbiamo provato a incoronare i calciatori o l'allenatore che sono siciliani d'origine quindi non siamo andati oltre. Lo scorso anno ha vinto la Gelbison e quindi a maggior ragione siamo usciti un po' fuori. Quest'anno abbiamo deciso di omaggiare proprio i siciliani. Partiamo dagli attaccanti, tantissimi, si sono distinti nel corso della stagione ma alla fine il contest ha premiato il buon Tommaso Bonanno. Tommaso Bonanno in lizza con Calogero Minacori e Vincenzo Vitale ma alla fine Tommaso Bonanno che conosciamo benissimo perché lo scorso anno era a Sant'Agata nella premiazione che abbiamo fatto al Castello Galliego come miglior bomber della stagione. Ne hai fatti tanti gol in questa occasione. Abbiamo il microfono. Ma quest'anno abbiamo sposato prima un progetto calabrese e poi c'è un signore qua in prima fila che ti ha fatto qualche telefonatina particolare e sei tornato giù a San Cataldo e direi che hai fatto un gran bene. La scelta giusta. Volevo ringraziare il mister perché dico anche merito suo se oggi io sono qua. A inizio dell'anno ho fatto delle scelte un po' affrettate e poi a dicembre abbiamo recuperato tutto il tempo che abbiamo perso lo stato facendo qua. Direi che avete fatto un girone di ritorno stratosferico e quindi il giusto premio. Hai mancato la ciliegina sulla torta del raggiungimento della zona playoff però direi tanta roba. Ci siamo divertiti. Abbiamo fatto sei mesi davvero importanti. Peccato per lo scontro diretto persone illicate però noi ce l'abbiamo messa tutta. E allora Tommaso Bonanno, atleta dal sopraffino fiuto del gol spose il progetto Verde Amaranto e a suon di realizzazioni Corona una stagione strabiliante. Color Cotto premia il buon Tommaso Bonanno arriva la pergamena e come vedete arriva anche una coppetta che sta a significare. Vediamo se c'è la telecamera vicina. Parlavo poco fa della famosa top 11 che il caro Emilio sempre aveva sognato e quindi abbiamo deciso la Dream Team top 11 Emily tra i cecchini infallibili c'è anche Tommaso Bonanno. Abbiamo da chiederti l'ultima cosa. Rimaniamo col mister perché il mister è sicuro di rimanere a San Cataldo. E Tommaso Bonanno? Tommaso, vediamo. Vediamo? Ancora è prematuro? Aspettiamo. Aspettiamo il primo luglio per avere notizie certe? Aspettiamo. Va benissimo. Complimenti, un applauso a Tommaso Bonanno. San Cataldese, lo scorso anno come abbiamo detto un ottimo giocatore ma non soltanto la San Cataldese squadra che ha fatto un gran bene. Tante squadre, ne abbiamo una qui nel comprensorio ma tra le squadre siciliane un'altra squadra che ha messo in mostra ottimi calciatori e soprattutto in età abbastanza tenera c'è stato il Licata che ha portato alla ribalta un giovane molto ma molto interessante. Nella categoria under ha trionfato Leonardo Saito. Arriva Leonardo che è stato in lizza per la vittoria finale con Carmelo Limonelli della Cireale e Giuseppe Pipitone del Trapani. Ma alla fine la spuntata Leonardo che sicuramente è un giovane di belle speranze classe 2004 quindi ha ancora una carriera davanti e sicuramente quest'anno ha fatto bene e se non erro il Catani ha preso pochi gol forse tu ne hai fatto uno o più di uno nella famosa gara. Uno solo. Quindi è stata sicuramente quella una delle gare dove hai avuto le emozioni migliori oppure magari ce ne sono state tantissime altre. Una delle più belle. Entrare al Massimino sicuramente non è... Non era facile. E quindi ce l'avete fatta. È stato un bel palco, sì. Ma è stata una bella stagione con il mister Romano che vi tiene sempre sotto d'orchio è stato un inizio altalenante della vostra squadra. È stato un inizio brutto perché nelle prime cinque partite ancora avevamo tre punte poi ci siamo riprese e siamo arrivati a fare playoff. Quindi una grande ascesa della squadra del Licata. Giovane talento in grande crescita si destreggia egregiamente grazie alla sua versatilità conquistando tutto e tutti. Questo è il riconoscimento per Saita. E andiamo a conoscere un altro sponsor. Sicuramente abbiamo detto una terra bella, un nostro borgo, le bellezze umane. Ma sicuramente abbiamo dei prodotti importanti. Uno dei nostri sponsor, Vini Scarpazza, che sicuramente omaggia Leonardo. Quindi in questo momento che siamo ancora di riposo possiamo anche alzare il gomito. Va bene Leonardo, complimenti a te. Direi che questa premiazione che seguirà è una premiazione di un calciatore che è entrato nel cuore di tutti perché ormai è messinese d'adozione anche se lui è nato in terra palermitana. E alla fine di questa stagione il miglior giocatore in assoluto considerato nel campionato di Serie D sta arrivando, è lui Claudio Calafiore. Eccolo qua, neopapà Claudio Calafiore da poco tempo, pensate un po' nel momento in cui ho dato la notizia e mi ha detto speriamo che il lieto evento arrivi presto così sono spensierato. Invece ce l'abbiamo fatto, doveva essere addirittura oggi mi avevi detto, quindi ha anticipato i tempi. E' predestinata? Claudio Calafiore, miglior giocatore in assoluto in questo caso perché hai battuto Franco Carella che è il capo cannoniere di questa stagione e soprattutto anche Riccardo Rotolo. Quindi direi un Claudio Calafiore che è sempre stato un punto di riferimento in tutte le squadre poi a Sant'Agata, a maggior ragione. Intanto sappiamo che oltre ad essere diventato papà e oltre ad aver fatto un campionato stratosferico con il Sant'Agata si è chiusa anche una pagina, quella tua, con il Sant'Agata. Scopriremo tra non molto quali sarà la tua prossima destinazione, però andiamo a chiudere questa stagione. Direi che è stata strabiliante o meravigliosa e direi poco. Sì, è stata una stagione intensa e ce l'abbiamo messo tutta per raggiungere i play-off. Non ci siamo riusciti nemmeno per un punto, per una differenza a reti e sono contento che l'abbiamo raggiunta in legata perché conosco moltissimi ragazzi però sono contentissimo della mia stagione. Arrivare in doppia cifra da centrocampista non era semplice. Ci tenevo a dire una cosa che per me è importante. Io ero il 2020, ero qui e tu mi hai premiato come miglior centrocampista dell'eccellenza B e quindi se posso mandare un messaggio ai ragazzi più giovani è quello di credere sempre che potete raggiungere dei risultati maggiori, di credere sempre che potete aspirare a qualcosa di meglio perché io nel mio piccolo ci sono riuscito. Direi che merito un applauso per le sue perle. Non soltanto in campo perché c'è stata una fase dove sei stato veramente meraviglioso. Fede degna, anima, bianca azzurra, trascina da leader un gruppo da svezzare perché di questo si è trattato quest'anno, coronando una stagione da protagonista in discorso. E direi che Claudio Calafiore, io non soltanto la pergamena, color cotto, entra di diritto nei top 11, nella Dream Team Top 11 Emily, sicuramente perché hai strameritato. Io so dove andrai tu dal primo luglio, lo vuoi dire tu? Oppure... Ti aiuto io. Diciamo che forse cambio arcipelago di destinazione dalle olie, forse passiamo a Lega, ti posso dire questo. Ho capito, quindi allora devono trarre loro le cose... Io non possiamo. Non possiamo. Il primo luglio è vicinissimo quindi sapremo ancora di più. Ma quanto è duro lasciare il città di Sant'Agata? Lasciare Sant'Agata è una scelta difficile, primis perché Sant'Agata è casa mia, la mia compagna è di Sant'Agata, il mio figlio è di Sant'Agata, però come ho detto nel mio post di saluti, non di addio, arriva un momento della vita dove devi fare una scelta, devi decidere se quel treno che hai aspettato per tempo prenderlo oppure lasciarlo andare. Io in questo momento decido di prenderlo proprio per il bene mio e della mia famiglia. Benissimo, complimenti a Claudio Calafiore. E andiamo a chiudere il cerchio con i migliori, i top di questa stagione nel campionato di Serie D, manca l'allenatore di questi grandissimi calcatori. Ce ne sono stati tanti siciliani che si sono contraddistinti in questa stagione, ma il migliore è stato considerato Pietro Infantino della San Cadaldese. Arriva qui, giocatore professionista. Grazie Pietro per la presenza come per gli altri. Pietro Infantino, Orazio Pidatella e Giuseppe Romano alla fine hanno scelto Pietro. Perché hanno scelto Pietro? Solo per i risultati della San Cadaldese, perché è arrivato buon anno, per cosa? Ma sicuramente i risultati condizionano tanto il giudizio finale, no? Il piacere è che questo premio viene dopo che tanti colleghi ti hanno votato. Questo significa che sanno che il lavoro c'è dietro durante l'anno, sanno che quando subendri ci sono difficoltà maggiori. È stata un'annata strepitosa, un'annata con grandi soddisfazioni. Soddisfazioni anche di aver dato la possibilità ai giocatori, ne abbiamo preso 5-6 dall'eccellenza della promozione, abbiamo dato la possibilità di fare questo campionato bellissimo. E questa è una grande soddisfazione, abbiamo fatto un giro in ritorno importante, 33 punti, la seconda difesa più forte del campionato, a 5 punti dal Catania. Credo che c'è stato un lavoro importante. Sicuramente questo premio lo condivido con la mia società, con il mio staff, ma io dico sempre che la differenza lo fanno i giocatori. Noi possiamo dare una mano, ma se non c'è dall'altra parte gente che ascolta, gente che crede in quello che fai, è difficile prendere premio, fare questi risultati strepitosi. Io dico che parlo con tutti gli allenatori ogni lunedì, non mi sopportate più, però con te ogni volta che parlavo tu mi dicevi la stessa cosa, Fabio non abbiamo fatto nulla, e vincevate in sequenza, ma non abbiamo fatto nulla. Cioè tu dimenticavi perché sapevi che se staccavate la spina e allora tutto quello che avevate fatto andava proprio in malora. Quindi questo sta a significare, ma anche pure la motivazione che ho scelto per te, abbenegazione e culto del lavoro al servizio dell'intero ambiente, stagione memorabile e palma di migliore che rafforze il risultato storico del sodalizio. Cioè l'umiltà e la cultura del lavoro, perché, oddio, ce l'hanno tutti, però... Ma io credo che qua c'è il mister Raciti che ha fatto un campionato strepitoso. So che conosco l'ambiente dell'ACR, non è facile, e lui per la seconda volta ha salvato l'ACR. Non è facile prendere squadre in corsa e ribaltare il pronostico. Il principio dell'umiltà, io credo che è alla base di tutto. Noi veniamo dalla terra. Io vengo da un paese che c'è un altro castello frangiforte come cammarata. Credo che... Mio padre diceva sempre non dimenticare mai da dove... non ti scordare mai da dove vieni, perché credo che l'umiltà è quello che la terra ti ha dato. Non lo devi dimenticare, devi andare su quei principi. Io sono cresciuto con... Mio padre diceva che ci sono due valori importanti e due concetti che non devi mai perdere, che sono il lavoro e la famiglia. Io credo che quando uno... Gli stava un rapporto di grande stima, di grande fiducia con la squadra crea una famiglia, ma dall'altra parte ci vuole il lavoro. Non basta solo creare un gruppo, ma creare un gruppo di lavoro che va al di là di quello che... al di là delle potenzialità che in quel momento ci sono. Noi abbiamo il compito di far contribuire o far crescere la potenzialità dei ragazzi e quest'anno ci sono riuscito. Ma non è sempre così. Oggi ho detto al Presidente azzeriamo tutto, dimentichiamo i 52 punti, dimentichiamo che siamo l'unica squadra che non ha perso col Catania. Abbiamo fatto un 3-3 bellissimo al Catania, ci siamo presi questa soddisfazione. Però il calcio... Il calcio non fa uno più uno, non fa due nel calcio. Certe volte fa tre, certe volte fa zero, certe volte fa meno uno. Per questo dico che è l'umiltà e ripartire sempre da zero, come ti dicevo, il martedì devi azzerare tutto se vuoi rivincere. Altrimenti non hai fatto nulla. E allora, abbiamo color cotto, come consuetudine, abbiamo la pergamena e sicuramente fino al primo luglio un altro dei nostri sponsor, Epica, birra artigianale. Quindi, ai tuoi figli, casomai, magari un bicchiere ciascuno. Grazie Pietro e complimenti per questa bella stagione. E abbiamo chiuso col campionato di Serie D, facciamo un breve break, o quantomeno break nel senso che non parliamo di calcio, ma andiamo a premiare chi ci ha ospitati all'interno di questa Kermes e quindi l'amministrazione comunale di Racuia è presente in mazza, quindi il sindaco sicuramente è un paio di... Non lo so, veda lei il sindaco, convochi lei, così riusciamo a ringraziare il vice sindaco, il presidente del consiglio. Ecco, li accogliamo con un applauso. Allora, intanto i ringraziamenti ci sono stati già fatti, grazie di tutto. Oggi, se abbiamo sistemato le sedie, c'eravamo io, mia moglie e c'era anche il sindaco, quindi pensate un po' che sindaco che abbiamo. Non è facile che ci sia un sindaco che sistemi le sedie. Grazie, sicuramente in questa bella location, ce l'avamo stati, come abbiamo detto, tre anni fa, ma siamo ritornati perché sempre al mare non si può stare, siamo tornati in montagna e direi c'è molta soddisfazione, credo sia una soddisfazione anche vostra. Assolutamente sì, lo diceva prima il mister, le radici sono importantissime. Sappiamo quanto importante, almeno io so personalmente, quanto importante lo siano per Fabio Todaro, perché da qui, veramente, un po' di anni fa, un gruppo di ragazzi guidati da Fabio e da Emilio Carullo, abbiamo deciso di scommettere su una passione. pian piano alcuni di noi si sono allontanati e subentrato a Telenebro di Antenna del Mediterraneo, Pippo Ricciardi, tutto lo staff di Antenna del Mediterraneo, ma Fabio è sempre qui con una passione immensa e la testimonianza di questa passione e del rispetto che lui gode in questo mondo è la testimonianza più grande della presenza di tutti questi campioni e questi sportivi. io che lo conosco so che lui ogni lunedì è al telefono dopo che passa il weekend sui campi a fare riprese, a fare interviste col suo PC, a fare statistiche. C'era dietro un lavoro grande e volevo solo sottolineare quanto Fabio Todaro sia un orgoglio per la nostra comunità. Grazie Sindaco, ti meriti un riconoscimento, quindi arriva Fernanda, grazie per le belle parole. abbiamo la possibilità velocemente Vice Sindaco e Presidente del Consiglio avete 35 secondi ciascuno perché c'è un calciatore che deve prendere il treno. Allora saremo brevissimi, volevo ringraziare tutti gli intervenuti, so che avete fatto molti chilometri per essere qua, siamo grati e onorati della vostra presenza come ha ribadito poc'anzi il Sindaco perché il nostro Borgo ci tiene ad essere protagonista sia in queste manifestazioni di eccellenza, prima Fabio all'inizio tra le bellezze citava se stesso, i gusti sono diversi però lo stimo per la sua competenza oltre per la fraterna facizia che ci lega da sempre, quindi Racquea vuole essere protagonista anche attraverso queste manifestazioni con la sua opera più bella che è questo castello, abbiamo fatto diversi usi, lo sport ci mancava Sindaco, abbiamo aggiunto un'altra perla al nostro colliere e quindi grazie per avere impreziosito con la vostra presenza gli allenatori e i calciatori anche per i vostri gesti tecnici e il vostro lavoro questa struttura, questo Borgo, questa comunità, grazie ancora. Allora in attesa che faccia il suo intervento il Presidente del Consiglio il premio Sergio Granata viene consegnato con una pergamena all'amministrazione comunale lo sport e le istituzioni sono un connubio perfetto e rappresentano un unico spettacolo che per quante volte si veda non si sa mai come andrà a finire a chiudere ci regina sulla torta l'intervento del Presidente del Consiglio moderatore dei lavori naturalmente assolutamente sarò brevissimo anch'io mi accodo ovviamente ai saluti a tutti gli intervenuti che ringrazio di essere qui presenti oggi spero che si trovino bene e che possa essere l'occasione per tornare nella nostra cittadina anche in momenti diversi e poi sicuramente non mancherà nelle prossime edizioni di ritornare perché il lavoro di Fabio io mi accodo ai ringraziamenti del Sindaco a Fabio un caro omaggio voglio farlo anche io a Emilio il lavoro che fate che avete fatto è infaticabile e ci rendo orgogliosi ci rendo orgogliosi perché i valori la cultura del lavoro che ha ricordato prima il mister l'attaccamento ai valori sani che lo sport esprime sono motivo di soddisfazione ed è quello che noi vogliamo trasmettere alle nostre generazioni e a chi verrà dopo di noi quindi grazie a voi e grazie a tutti gli intervenuti grazie a voi grazie a me stazione comunale grazie vice sindaco grazie presidente del consiglio alle ragazze e allora velocemente ritorniamo al calcio eccellenza girone A ed eccellenza girone B partiamo col gigante che ha trionfato nell'eccellenza girone A l'acragas vincitrice del campionato ecco qui abbiamo il dottore Bottone che lo accogliamo con un applauso sarà colui arriva anche il microfono sarà colui che è stato un campionato stratosferico possiamo dire intanto buonasera buonasera a tutti grazie per l'invito che cosa dire al terzo tentativo ce l'abbiamo fatta dopo due finale perse una con la San Gataldese l'anno scorso con Martina Franca al terzo tentativo come vede siamo tosti ad Agrigento Agrigento non è solo famosa per la valore dei templi per Pirandello ma ama moltissimo il calcio è una piazza che è stata sfortunata noi siamo precipitati dalla Lega Pro falliti quasi perché eravamo ospite a Siracusa per giocare a calcio perché la nostra struttura e lo stadio non era idoneo per la Lega Pro e quindi queste lunghe trasfette a Siracusa hanno fatto sì che la società non ce la facesse a sopravvivere quindi ci siamo messi con buona volontà e dalla promozione da cui siamo ripartiti nel giro di 3-4 anni perdendo due finali al terzo tentativo Giovanni Piondo se lo ricorda ne abbiamo perso una con la San Gataldese ti ricordi Giovanni quindi ora siamo qui felici e mi dispiace per gli amici di Enna che meritavano anche loro e so cosa hanno passato perdendo col Siracusa ma il calcio è bello per questo ci sono molte più sconfitte che vittorie ma quando si vince è bellissimo io lo scorso anno nel momento in cui avete perso la finale ho detto al sodalizio Davide Sardo e anche il mister Terranova dalle più grandi sconfitte si riparte per raggiungere nuovi traguardi e quest'anno è stato così tra le altre cose lei ha parlato anche dell'Enna è stata una finale di eccellenza siciliana tutta siciliana a livello nazionale quindi è stata proprio una stagione stratosferica arrivano le due ragazze ad omaggiare l'Akragas sontuosa cavalcata frutto della certosina condotta di tutta l'entourage giusto premio per il ritorno del gigante nell'Olimpo della quarta serie arriva Color Cotto e arriva anche un altro sponsor Vini Fantasia e quindi ci sarà da bere dobbiamo fare strada quindi sarà molto ma molto complicato allora il signor Bottone che carica io so che è dottore ma che carica dirigente allora nelle nomination e soprattutto nelle vincite individuali c'è tanto Agragas all'interno di questo campionato riusciremo ad avere la possibilità di far recapitare il premio di miglior portiere perché è stato considerato Elezai purtroppo è a Torino e quindi non non ha la possibilità di poter di poter beneficiare del premio e quindi glielo faremo recapitare e il miglior difensore di questo campionato è stato Juan Barrera che è un po' più distante perché in Argentina quindi sicuramente sia miglior portiere sia miglior difensore vinto il campionato e credo che c'è tanta roba e non sono finite le sorprese quindi direi chapeau all'Agragas grazie grazie e buon proseguimento e allora in un sol colpo ci siamo tolti diciamo tre tre premiazioni proseguiamo e in mezzo a tanto Agragas direi che abbiamo detto ci sono tanti attaccanti che hanno fatto bene in questo campionato il miglior attaccante del campionato di eccellenza Girone A sicuramente non è stata l'ultima settimana molto bella però lo vedo sorridente lo chiamiamo subito sul palco Salvo Cocimano dell'Enna miglior attaccante stagionale eccellenza Girone A arriva Salvo grazie della tua presenza e allora Salvo Cocimano non è facile l'anno scorso è venuto Alfonso Cipolla dopo che avevano perso come ha detto poco fa il dirigente Bottone mi ha detto pazienza dobbiamo ripartire per vincere un nuovo campionato però era sorridente come te ma questo sta a significare che nonostante la sconfitta tu sei qua sereno e i riconoscimenti fanno un po' passare quella leggera amarezza che sicuramente domenica scorsa a quest'ora c'era ed era tantissima anche se qualcuno ride qua dall'altra parte allora Salvo intanto ti ringrazio per l'invito sicuramente non è stata facile la sconfitta sia in campionato che nei playoff ma l'importante è sempre mettercela tutta e battagliare in ogni partita non è stata facile all'andata 1-1 nella finale con il Siracusa ero presente io e devo dire la verità potevate chiuderla e poi invece quel giocatorino di Luca Figarrotta vi ha seglato quel gol che poi è diventato determinante poi al ritorno eravate addirittura andati in vantaggio con un tuo assist però poi la forza del Siracusa vi ha annientati e quindi direi alla fine nel compito dei 180 minuti la vittoria del Siracusa è stata legittima però direi che chapeau anche all'Ena perché ha condotto una stagione stratosferica e avete perso credo una sola partita col Siracusa sì sì una con l'Agregas con l'Agregas scusa e una con il Siracusa le partite più fondamentali sapevamo di incontrare nei playoff una squadra molto importante un allenatore preparato con dei giocatori importanti i particolari facevano la differenza sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa se non abbiamo vinto noi allora intanto tu hai vinto questo premio battendo altri calciatori che sono molto ma molto importanti Ivan Agudiak che conosci probabilmente che è stato determinante nel corso della stagione e Fabrizio Monti che ti ha dato filo da torce anche nel classifica dei cannonieri perché si è arrivato ad un soffio anche dalla vittoria quindi direi chapeau anche per per gli altri tuoi due calciatori che sono arrivati dietro di te arrivano le due ragazze con la pergamena vero e proprio faro della compagine estremamente prolifico sotto porta diventa fattore stagionale grazie arriva anche color cotto arriva la pergamena e arriva anche un posto nella top 11 quindi direi tanto tu puoi fare l'attaccante puoi giocare a centrocampo tu sei molto duttile e versatile quindi direi a questa squadra attrazione anteriore direi che riesci a dimenarti in qualsiasi posto bravo salvo e complimenti a te e a Lenna naturalmente per la stagione che ha portato a termine all'interno di tutti questi grandi campioni già affermati come abbiamo detto ci sono anche degli under molto ma molto interessanti in tre in lizza per la vittoria finale l'ha spuntato un altro ragazzo del gigante Bernardo Baio arriva Bernardo che ha battuto la concorrenza di Riccardo Mangiaracina dell'Unitas Sciacca e Gabriele Scaletta ciao Bernardo allora classe 2003 se non andiamo errati un giocatore molto ma molto importante nello scacchiere di mister Terranova stagione importante e una vittoria che è giunta con pieno merito sì all'inizio per iniziare volevo ringraziare tutti a partire dalla società che ma sia ai compagni è un ringraziamento speciale volevo fare a Franco Colombo che è qui ancora con me e soprattutto anche a Desiderio Verufo che è seduto lì davanti a noi quindi direi che abbiamo capito che il tuo punto di riferimento fuori era questo signore che hai nominato ma soprattutto Desiderio è stato trainante nel tuo percorso e sicuramente lui che di campionati ne ha vinti ha calcato dei campi importanti mi ha aiutato tanto sia dentro che fuori dal campo e mister Terranova? mister Terranova faccio un saluto perché non è potuto venire ma mi mi messaggia spesso e siamo sempre in contatto e allora arriva Fernanda e anzi Giuliana allora pendolino della corsia egregio in entrambe le fasi risulta essere essenziale nella manovra agrigentina atleta dal futuro assicurato arriva Scarpazza ecco il uno dei nostri sponsor si chiama così quindi sono ripresenti sicuramente ecco un altro omaggio possiamo alzare il gomito fino al primo di luglio e poi che facciamo ripartiamo col gigante ma sicuramente la Cras ha priorità su tutti però sono aperto a nuove sfide idee chiarissime bravo Bernardo classe 2003 un futuro davanti Bernardo ha parlato proprio del tecnico il tecnico Terranovo che ha vinto la concorrenza di tutti gli altri però stamattina mi ha mandato un messaggio è a casa con le placche e quindi non è potuto essere presente qui quindi gli faremo recapitare il suo riconoscimento e ha battuto la concorrenza di Gaetano Catalano e di Marco Mineo Gaetano Catalano della Profavara e Marco Mineo del Casteldaccia ma in questo campionato sicuramente oltre agli attaccanti ai difensori ai centrocampisti c'è un giocatore che in assoluto è stato considerato il top lo ha nominato poco fa Bernardo lo chiamiamo subito sul palco Desiderio Garufo tanti grandissimi giocatori ma qua siamo a un livello in passato proprio che ha chialcato i campi di serie A serie B serie A ci siamo quasi arrivati ma serie B siamo arrivati abbiamo fatto tantissime presenze Regina Parma Trapani Poi Novara Regina già detto Parma Novara Trapani Catanzaro Taranto sì più di 300 partite nei professionisti buonasera a tutti grazie per l'invito Fabio come detto prima ha detto il mister è sempre difficile vincere affermarsi ci vuole tanta umiltà soprattutto quando da professionista passi nei dilettanti quindi devi cercare anche di oltre a dare sotto l'aspetto tecnico devi dare tanto anche sotto l'aspetto umano quello soprattutto per i ragazzi come Bernardo e tanti altri giovani che siamo riusciti a far crescere siamo riusciti a raggiungere un grande obiettivo un grande obiettivo è ha detto Bernardo che tu sei un punto di riferimento ma poi tu sei un calciatore un uomo a 360 gradi e poi soprattutto la tua esperienza io dico questo tu hai siglato credo 9 rigori su 9 ho siglato 10 rigori su 11 ne hai sbagliato hai fallito su 1 e sembrerebbe semplice presentarsi dagli 11 metri ma questo sta a significare che uno è freddo glaciale e non è facile sì soprattutto perché sono stati rigori come quello contro se non ricordi domani contro il Gela al 99esimo dopo 10 minuti di recupero quindi avevamo l'enna dietro attaccata e a tre giornate poi avevamo lo scontro diretto perché loro andavano forti perché in quel momento erano sicuramente la squadra più in forma del campionato quindi ti metti sulle spalle una grande responsabilità una responsabilità di una piazza che aveva l'esigenza di vincere di 40 famiglie che lavorano per un obiettivo perché dietro un lavoro grande oltre dei giocatori ci sono i magazzinieri ci sono persone che lavorano sotto traccia che vivono di calcio per mille mille e cinquecento anche novecento euro al mese quindi bisogna rispettare anche il lavoro di queste persone che fanno tanto e sono secondo me l'anima di una squadra di calcio belle parole di Desiderio Garufo professionalità esperienza e glacialità virtù che aiutano il gigante a maramaldeggiare gli avversari stagionali chapeau mister nove promozioni me la sono tenuta per ultimo questa nove promozioni grazie per chi non lo sa in carriera sono cinque campionati nei cinque vittorie nei campionati professionistici quattro consecutive dalla CLB e poi quattro nei dilettanti con Agragas Canigatti non dimenticate altre due aspetta va bene sono nove sono quattro sono nove sicuramente le ultime due sono Canigatti e Agra se poi ce n'erano due Alcamo e Nissa e Nissa benissimo ma infatti nell'ultima giornata quando avete vinto il campionato mi ricordo che abbiamo fatto la videochiamata e ti sei presentato con la maglietta mister nove promozioni arrivano le ragazze a consegnare la pergamena la brocca di color cotto e sicuramente con tanta roba per questo calciatore ci entra di diritto nella Dream Team top 11 volevo fare complimenti a Siracusa che è una squadra siciliana che ritorna volevo fare complimenti a Siracusa che ritorna diciamo una squadra siciliana che ritorna in un campionato più è blasonata e complimenti a Lenna che è stata è stato un grandissimo avversario benissimo non ti chiedo il primo luglio che cosa farai però sappiamo che ancora è tutto in divenire benissimo bravo Desiderio Garufo miglior giocatore ci doveva essere un'altra premiazione per quanto riguarda questo campionato perché il capo cannoniere Domenico Mistretta di questo torneo però ha un problema in famiglia e quindi è rimasto in sede abbandoniamo l'eccellenza girone A e passiamo direttamente all'altro campionato che lo viviamo diciamo molto ma molto più da vicino però è interessante come abbiamo visto anche quello del girone A e quest'anno una squadra anzi in questo campionato sono state due le squadre promosse però la prima squadra a tagliare il traguardo della Serie D è la nuova Igea Virtus abbiamo il presidente o l'ex presidente Bartolo Costantino abbiamo anche l'addetto alla comunicazione se vuol salire sul palco ma intanto arriva Bartolo Costantino lo accogliamo con un applauso nuova Igea Virtus porta bene il castello Branciforti perché allora è stata premiata vincendo il campionato di promozione quindi ogni qualvolta decideremo prima di venire a Racui è probabile che si vincerà questo campionato quindi se siete nelle condizioni di vincere anche il campionato di D il prossimo anno già parliamo con l'amministrazione comunale stiamo un po' più calmi allora che dire quest'anno è stata una stagione davvero irripetibile perché comunque abbiamo dimostrato che programmando per tempo si possono raggiungere grandi risultati un applauso va ai miei amici dirigenti che si sono dimostrati compatti insieme a me nel credere fortemente nell'obiettivo ci siamo uniti abbiamo condiviso le idee ci siamo relazionati costantemente con lo staff tecnico e con i giocatori abbiamo creato un'alchimia che ci ha permesso di vincere il campionato anche in un livello molto importante che non si vedeva da anni in eccellenza perché squadre come Siracusa che era attrezzata eccezionalmente ha dimostrato di vincere poi i playoff squadre come il Modica attrezzate in modo molto importante il Taormina che quindi era un campionato che non si vedeva da anni e vincerlo e vincere anche la Coppa Italia contro l'Agragas è un motivo di grande orgoglio per il calcio del nostro Interland stagione straordinaria coronata col double e quindi mi hai anticipato il minuzioso lavoro dell'intero sodalizio ha prevalso alla resa dei conti arriva la pergamena arriva color cotto e arrivano i vini della ritta fantasia Tripoli fantasia applauso alla nuova Igea Virtus che ha già riniziato Bartolo Costantino non è il presidente il nuovo presidente è Massimo Italiano ma soprattutto siete una grande famiglia lo abbiamo sempre detto ci sono state tantissime riconferme quindi si parte dallo zoccolo duro direi che sicuramente si vorrà far bene anche in quarta serie sicuramente ho avuto degli impegni lavorativi che mi terranno un pochettino distante da Barcellona quindi era giusto che un amico come Massimo e comunque sia che conosce il mondo del calcio ricoprisse la carica di presidente e comunque sia come dicevi siamo comunque nell'Interland siamo vicini la società è compatta anche io faccio parte della società anche da esterno quindi stiamo già progettando la prossima stagione il punto di forza è stato mister Ferrara che è anche qui presente che è stato confermato la prossima stagione quindi cerchiamo di dare una continuità a quello che abbiamo fatto l'anno scorso grazie Bartolo e complimenti alla nuova Igea Virtus tanta Igea Virtus come tanta Acragas nel raccorpamento ha ma il miglior portiere di questo campionato al fotofinish va all'estremo del città di Taormina Umberto Cirnigliaro lo accogliamo con un applauso Umberto che è stato determinante nella stagione della squadra Ionica scopriremo ora pareremo con lui perché ci sono state più di ciao Umberto intanto e benvenuto eccolo qua il baluardo di questa squadra città di Taormina che poi si è fermata ai playoff ma Umberto è stato determinante ricordami quanto sono stati i minuti di imbattibilità quasi dieci partiti ecco quasi dieci partiti nove e mezzo diciamo quindi c'è stata una fase dove avevi messo il lucchetto alla porta e mi ricordo che in qualche occasione forse a Santa Croce hai fatto una parata straordinaria con un bel colpo di reni e stavi proprio per diciamo perdere questo record guarda il singolo emerge quando il collettivo funziona sono felice per il premio per essere qui davanti a tutti poi alla fine chiaro è stato un campionato bellissimo forse uno dei più belli a cui ho mai partecipato perché c'erano piazze importanti come Barcellona come Siracusa Modica Lentini Comiso stessa alla fine hanno vinto i più forti complimenti al mister Ferrara e complimenti a Luca che ha deciso che il Siracusa doveva andare in D Benissimo Umberto Cignigliaro che ha chiuso il rapporto con il cittadino da Taormina se non sbaglio hai fatto una lettera oppure è la solita lettera che si fa di fine stagione No dispiace perché si era creata una famiglia purtroppo non ci sono le condizioni strutturali per andare avanti non per la proprietà non per i dirigenti ma perché appunto lo stadio sta per essere ristrutturato quindi termina qui Benissimo e allora intanto omaggiamo con le ragazze che ritornano Fernanda e Giuliana arriva la pergamena la pergamena per Umberto Cignigliaro sicurezza ed esperienza al servizio del reparto abbassa la sala cinesca spesso e volentieri elevandosi a totem del reparto arriva anche color cotto e il portiere di questa squadra sicuramente di questo dream team è Umberto Cignigliaro e devo dire come ti dicevo a microfoni spenti con Agustin Staropoli avete battagliato fino alla fine ma sei riuscito tu a vincere questo premio per questa stagione grazie un applauso per Umberto Cignigliaro ritorniamo in casa nuova Igea Virtus perché il miglior difensore di questo campionato forse anche chi non segue tantissimo il calcio magari riusciva a dire sì sarà lui perché non ci sono dubbi però il contesto è partito è arrivato a destinazione e Gabriele Franchina è risultato il migliore di questo campionato Gabriele Franchina di professione fa il difensore ma quest'anno direi che non ha fatto tanto il difensore è stato determinante anche dalla cintola in su eccolo qua Gabriele buonasera altro applauso per Gabriele che è stato nella giornata dell'apoteosi ho detto a Gabriele per me sei il pallone d'oro di questo campionato lui mi ha detto tu stai scherzando te lo ribadisco anche a distanza di qualche mese grazie diciamo che quest'anno ho visto davvero un'emozione incredibile fare bene e farlo a casa propria è un valore più tu in un'occasione mi hai detto noi barcellonesi quello che stiamo vivendo in questo momento era da tanto tempo che non lo vivevamo e non vogliamo svegliarci perché avete capito secondo me quando avete vinto già la coppa con l'Akragas che probabilmente ci sarebbe stata la possibilità di fare il double è molto semplice dirlo adesso però no onestamente onestamente no perché sapevamo che davanti a noi o comunque insieme a noi c'erano delle squadre importanti forse che anche dall'inizio erano partite un po' più avvantaggiate rispetto a diciamo almeno sulla carta però diciamo dopo lo scontro diretto con il Siracusa abbiamo capito che magari qualcosa di importante veramente lo potevamo fare non è stato facile abbiamo lottato fino all'ultimo secondo però ci siamo riusciti arrivano le ragazze per omaggiare Gabriele Franchina meraviglioso interprete della propria compagine risulta letale in zona gol vero e proprio pallone d'oro dilettantistico grazie color cotto la pergamena e naturalmente entra di diritto nella nella top 11 perché sicuramente si è stato determinato 12 gol in campionato 11 e 1 in finale e 1 in finale quindi addirittura non parliamo perché sono quelli dell'Agragas che si arrabbiano bravo Gabriele Franchina un grosso applauso si parlava di tante ottime squadre si parlava poco fa di qualche amarezza qualche anno addietro per un giocatore che ha giocato nell'Agragas ma quest'anno invece ha raggiunto l'apoteosi della D da barcellonese il miglior centrocampista del campionato di eccellenza a girone B e risultato Giovanni Biondo arriva qui il sette polmoni del Longano benissimo io benissimo tu ora un po' meglio perché di quanti chilometri fai almeno ti sei riposato ci stiamo riposando per riprendere a breve allora Giovanni intanto già riprendiamo a breve sappiamo con la stessa casacca perché nel giorno della presentazione del nuovo organigramma Giovanni Biondo è stato riconfermato lui è Danilo Abate se non erro Alessio Di Gaetano però in ogni caso Giovanni Biondo non ripartire da Giovanni Biondo sarebbe stato veramente un no guarda penso che era impensabile non ripartire dopo una cavalcata del genere che abbiamo fatto quest'anno dopo la vittoria di campionato e coppa era nei miei programmi insieme alla società non c'è stato bisogno di tante parole per riconfermare la mia presenza qui a Barcellona il prossimo anno quindi abbiamo trovato facilmente l'accordo e sono felice di proseguire questo cammino con l'Igea direi di sì è stata una stagione trionfale tu addirittura sei stato importante anche in zona di gol nella famosa partita col Seracusa hai segnato oltre a Franchina hai segnato pure tu quindi proprio due barcellonesi che hanno premesso la ciliegina sulla torta a questo campionato quindi direi un'altra rafforza la stagione strepitosa che avete fatto penso che sia stata fondamentale la forza del gruppo perché abbiamo creato veramente ogni tanto si dice così tanto per dire ma abbiamo creato veramente una famiglia dove ci siamo trovati benissimo durante la stagione e questo penso che l'abbiamo riportato in campo e poi alla fine siamo stati premiati con la vittoria finale ma poi avendo un martello come quel signore in panchina non potete abbassare la guardia arrivano le ragazze a consegnare il riconoscimento instancabile maratoneta giganteggia nella zona nevralcica risultando fondamentale nello scacchiere del Longano color cotto ed epica un altro dei nostri sponsor quindi da qui al primo luglio possiamo divertirci ad alzare il gomito e poi si torna a sudare a fare sul sede al 20 luglio però già cominciamo a entrare in modalità ritiro grazie Giovanni lo concediamo con un grosso applauso basta Igea basta Igea non parliamo più dell'Igea andiamo ad omaggiare la squadra che ha fatto gli straordinari e solo la settimana scorsa è riuscita a sbaragliare la concorrenza e aggiungere in serie D molto ma molto blasonato il sodalizio a Retuseo il presidente Montagno arriva sul palco perché il Siracusa ritorna in serie D buonasera a tutti buonasera il presidente Montagno perché siamo sui Nebrodi e lui è il presidente a Retuseo ma è nebroideo galatesi e galatesi e infatti ci siamo visti l'anno scorso agli HDP Rai dicendogli che ero di Iracuia e dice ma allora siamo quasi conterrane allora presidente direi che intanto grazie per averci dato questo riconoscimento che io lo voglio condividere con il mio socio Alessandro Ricci con tutto lo staff perché si arriva a raggiungere gli obiettivi solo se si è uniti all'interno della società solo se si è se si ha uno spogliatore come quello che abbiamo noi quest'anno che abbiamo avuto noi quest'anno e quindi un ringraziamento va dal magazziniere all'ultimo all'ultimo giocatore che abbiamo avuto grazie a loro siamo riusciti a coronare un sogno dopo sette anni abbiamo riportato il Siracusa in serie D con sacrifici importanti con un impegno costante ma questi sacrifici sono stati ripagati dal nostro pubblico è stato meraviglioso abbiamo avuto 6.000 persone in una finale di eccellenza forse un record nazionale sicuramente sì va fatto un plauso all'Enna alla dirigenza dell'Enna la domenica scorsa abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso i nostri tifosi sono andati sotto la curva dell'Enna applaudire i tifosi dell'Enna e la squadra dell'Enna questo è l'essenza del calcio questo è quello che significa veramente fare sport ed essere uniti io tra le altre cose grazie presidente come dicevo poco fa Salvo Cochimano ero presente ad Enna non ero presente a Siracusa ed è stata una bellissima giornata di sport un pubblico veramente molto ma molto maturo proprio è stata una bellissima giornata sotto tutti i punti di vista sicuramente vi ha fatto un plauso alla nostra tifoseria al nostro pubblico la città ha fame di calcio l'ha dimostrato uno degli obiettivi primari di quello di questa società era riportare le famiglie allo stadio e avere visto domenica scorsa le famiglie con bambini al seguito per me è stato un obiettivo raggiunto e una grande soddisfazione benissimo e questo è il calcio che piace a noi arrivano le ragazze l'onda retusea conquista la cognata serie D grazie al lavoro minuzioso dell'intero entourage grazie arriva anche color cotto e arriva anche il vino locale da queste parti una nostra azienda scarpazza quindi sicuramente grazie presidente naturalmente ce la riconferma ufficiale già del direttore Castorina e del mister Cacciola quindi si riparte per come si è finiti grazie presidente grazie per la presenza è un abitué di queste Kermess perché ha un vizietto quello di buttarla sempre dentro e quest'anno non soltanto migliore attaccante del campionato ma anche capo cannoniere Nino Carbonaro arriva sul palco l'anno scorso a Sant'Agata con il Carlentini quest'anno invece con la Leonzio ma è sempre lui non perde il vizio e riesce sempre a bucare le reti avversarie ma diciamo che è fortuna più che altro bugiardo non è fortuna tu mi dici spesso che ti mettono nelle condizioni di però se non hai una grande squadra dietro l'attaccante sai alla fine non fa il suo quindi io sono sono stato fortunato in questi anni ad avere dei giocatori dietro che mi mi rendevano tutto più semplice i fratelli scapellato tra gli altri e tanti altri calciatori comunque un Leonzio che ha fatto un'ottima stagione l'obiettivo ha detto del mister Serafino era una tranquilla salvezza poi però siete arrivati ad un soffio diciamo dalla possibilità di giocarvi questo campionato però va bene così va bene così per la società una nuova società naturalmente che è ritornata a Lentini ma soprattutto per te un trampolino di lancio per chiudere questa carriera in qualche categoria superiore o sei sempre dell'avviso dell'inverno che è questa la tua dimensione la categoria rimane quella perché non ho non ho il tempo anche perché col lavoro non riuscirei a fare categorie superiori lasciamo spazio ai giovani quindi se eventualmente qualcuno vorrebbe avere il contatto telefonico per chiamarti non c'è nulla da fare rimaniamo qui arrivano le ragazze a farci compagnia per Antonino Carbonaro che ha vinto la particolare gradatore di miglior attaccante la concorrenza di Luca Figarrotta e di Lucas Ido Iaga calciatore totale cinico in zona goal associa talento classe e professionalità risultando impareggiabile quindi direi che ancora una volta entri di diritto nella Dream Team color cotto pergamena penso proprio che siamo abbiamo raggiunto anche quest'anno questo grande obiettivo grazie infatti ci vediamo l'anno prossimo ci siamo quasi arriva una premiazione per un dirigente che ritira il premio per il miglior under stagionale di questo campionato si ritorna nella zona ionica Salvatore Lemura è stato considerato il miglior under stagionale ritira il premio l'ha detto stampa Antonio Billet Salvatore Lemura ha vinto la concorrenza di un altro giocatore Igeano Alessio De Gaetano e anche di Giuseppe Lamesa che era compagno di squadra di Nino Carbonaro buonasera buonasera Fabio buonasera a tutti finalmente ce l'abbiamo fatto dopo quattro anni ad averti qua i battesimi infatti i battesimi li avevamo finiti allora brevemente raccontaci di Salvatore della stagione del Città di Tormina in un minuto e mezzo perché c'è il treno che sta partendo la stagione del Città di Tormina è stata secondo me molto molto bella molto interessante in un campionato che come abbiamo già detto ha più riprese sia questa sera ma nel corso della stagione finalmente è bello l'eccellenza più bella indubbiamente degli ultimi anni lottata fino all'ultima giornata con dei playoff che poi sono stati anche anche combattuti di Salvo Lemura cosa dire ci è caduto un dono dal cielo ci lo siamo ritrovati a preparazione iniziata francamente un calciatore che nonostante sia un 2003 ha poco a che vedere con vieni qui qua Antonio così scusatemi ha poco a che fare con il torneo di eccellenza sono già in tante le squadre di serie D e non solo che lo hanno che lo hanno attenzionato per la prossima stagione un talento assoluto un valore in più per tutti noi spesso con con Umberto Cernigliaro che quando con il mister si studiava l'uscita della palla dal basso come si fa come si fa adesso Salvo non rischiare perché non siamo abituati in eccellenza a vedere un calciatore di quella qualità molto spesso molto spesso il calciatore capita che in eccellenza il calciatore nella propria tre quarti la verde la palla sul pressing e Salvo no Salvo usciva a testa alta e faceva ripartire la manovra è stato uno dei nostri valori aggiunti in un campionato che per noi è stato molto bello faccio i complimenti al mister Ferrara all'Igea al Siracusa e a Luca Figarrotta che come ha detto Umberto a un certo punto ha deciso che il Siracusa doveva essere promosso è un dispiacere per noi come città di Tormina purtroppo non esserci poi il prossimo anno perché come dicevamo dicevamo prima il problema strutturale è troppo grande non c'è un campo dove giocare non c'è un campo dove allenarci purtroppo i campi della zona c'è soltanto Santa Teresa che è obberato di squadre per poter trovare un rag e quindi finisce qui purtroppo e quindi in una serata diciamo bella abbiamo questa certezza che non ci sarà il città di Tormina e quindi si perde una grande squadra ritorniamo a Salvatore Lemura sarai tu a consegnargli la pergamena talento già affermato conquista a tutti grazie al suo acume tattico pronto per il professionismo come hai detto questo lo dicevano anche di me quando avevo vero? sì sì poi io ho messo su qualche chilo benissimo allora c'è anche un omaggio grazie Antonio e soprattutto grazie anche al tuo essere prezioso diciamo sotto grazie Fabio un piacere per me esserci perché in questi anni come messina nel pallone con te abbiamo collaborato strettamente in maniera proficua e poi esserci e stare in tua compagnia è davvero un grosso piacere grazie Antonio grazie e allora siamo pronti quasi sul secondo binario ma prima dobbiamo incoronare il miglior allenatore di questo campionato credo che ormai lo abbiano detto in tutte le salse lo chiamiamo è lui Pasquale Ferrara Pasquale Ferrara ha battuto la concorrenza di Gaspare Cacciola che poi è giunto in quarta serie e anche di Samuele Costanzo tecnico emergente che ha è stato in sella al al Mazzarone e adesso sarà il secondo di del tecnico coppa dell'Akragas allora Pasquale buonasera a tutti grazie dell'invito che dire hanno detto tutti gli altri ringrazio Taormina Siracusa per le belle parole che hanno speso nei nostri confronti e complimenti al Siracusa Presidente Ventagno grande Luca Figarotta che ci hanno raggiunto mi dispiace per l'amico Salvo Cocimano dell'Enna che credo che anche loro meritano di andare in dis spero in questo ripescaggio che possa essere con l'oro benefico che li possa accompagnare anche a loro in D perché per il cammino che hanno fatto credo che lo meritano Pasquale Ferrara subito riconfermato si riconferma lo zoccolo duro sicuramente la nuova Egea Virtus cercherà di fare un campionato per rimanere nella parte sinistra di questo torneo però ritornare in quarta serie per una città come Barcellona direi che ti dà tanta soddisfazione eh Barcellona è per un barcelonese che ricordo dalla stagione 99-2000 quando faceva il secondo a Greta Nauteri abbiamo perso il professionismo per dieci anni siamo ripartiti dalla prima categoria e siamo tornati in serie D e per un barcelonese essere come si dice nella propria patria profeta in patria non è facile e vincere a Barcellona dà un sapore diverso e un gusto diverso è una vittoria che voglio condividere con la società con quei splendidi e maravigliosi ragazzi che mi hanno sopportato e sopportato perché per vincere bisogna avere delle capacità morali fondamentali come il gusto di imparare il rispetto per sé e per gli altri il senso di responsabilità e il senso del dovere queste sono state quattro capacità morali che ci hanno portato lontano e vincere campionate coppa contro una corazzata come l'agragas che proprio in quella settimana leggevo che erano quattro gol avevano preso tutto il campionato quindi diciamo che per noi è stato meraviglioso tutto questo infatti io ho detto a Franchina forse da quella gara avete capito ancora di più che poteva essere l'anno consono arrivano le ragazze a premiare Pasquale Ferrara con la pergamena pragmatico scrupoloso e cultore del lavoro Ole ha un meccanismo perfetto trionfando con merito nella categoria di competenza e quindi color cotto e direi il tecnico avendo vinto il double quest'anno di questa dream team è Pasquale Ferrara e quindi applauso grande per il trainer della nuova Igea Virtus che è pronto a ripartire grazie Pasquale chiudiamo il campionato di eccellenza girone B chiosando naturalmente con il top in assoluto lo hanno detto in tutte le salse quando ha deciso di portare il Siracusa in serie D ha acceso i motori e naturalmente è arrivata questa promozione Luca Ficarrotta eccolo qua miglior giocatore del campionato di eccellenza girone B grazie Luca io lo dico lo dico lo devo dire perché in più di un'occasione ci siamo sentiti la corte che ho fatto a te quest'anno non l'ho fatto nemmeno a mia moglie quando ci siamo fatti fidanzati quindi questo lo dico pubblicamente altro giocatore di spessore che ha calcato i campi importanti ha giocato a Palermo è stato promosso direi una bella stagione anche questa anche quella di Palermo ma questa qui con Siracusa forse è un sapore diverso questa qui è un sapore diverso anche perché a Palermo c'è stato il covid quindi non non ce la siamo non ce la siamo goduti come questa e poi vincere il campionato a Siracusa è un'emozione immensa 6.000 persone gente che ama il calcio presidente tutto quello che c'è dietro che ama il calcio quindi per me è stato veramente un onore indossare questa maglia e spero di indossarla ancora per anni questa maglia quindi c'è un'apertura presidente quindi ora ritornando giù chissà che magari non ci sarà questo continuo matrimonio proprio partendo qui da Raccoia eh ci siamo quasi Luca però tu mi devi togliere una curiosità tu sei quel classico giocatore che se decidi di giocare a pallone la vinci da solo la gara perché fate ci siete questa categoria di giocatori che magari ci sono determinate gare che proprio ma non è che le partite decidi da solo le partite che decidi da solo sono una, due poi c'è tutto il lavoro dietro di squadra compagni staff e tutto e tutto questo poi se sei messo in condizione di esprimere le tue le tue potenzialità è sempre grazie ai tuoi compagni mister e tutti quanti benissimo arrivano le ragazze a consegnare a Luca Figarotta e senza pura del calcio atleta sublime dotato di genialità impareggiabile incanta e si erge ad autentica stella mi sono superato applauso a Luca Figarotta che entra di diritto anche nella Dream Team color cotto e pergamena e quindi allora filmiamo questo contratto e poi mi mandate la foto quando arrivate giù al mare speriamo va bene grazie bene Luca e allora facciamo un piccolo stacco e poi ritorneremo naturalmente con gli altri campionati che abbiamo seguito promozione prima categoria è la seconda parte di questa Kermes finale dal castello Branciforti di Racuia abbiamo omaggiato dalla Lega Pro possiamo dire fino all'eccellenza e quindi ora scenderemo di categoria però come vi ho detto è una serata dedicata anche il premio Sergio Granata e soprattutto anche al nostro compianto regista storico il mio compianto regista storico Emilio Carullo che sicuramente come ha detto anche il sindaco da qui tutto è partito la moglie non è presente perché stasera l'avevamo invitata giustamente in modo automatico lei non se l'è sentita di venire e ha mi ha mandato un messaggio e mi ha detto di leggerlo perché sono delle parole toccanti per ricordare Emilio so che tributerete un ricordo ad Emilio e sono grata a te e a quanti hanno collaborato all'evento di stasera ti ringrazio per l'invito e la cortese sollecitazione con la quale hai chiesto la mia presenza ma emotivamente non sono ancora pronta Emilio guardava con piacere tutte le tue performance e gioiva dei risultati che man mano raggiungevi frutto della passione e della dedizione mai dell'esibizionismo sarebbe stato felice ed orgoglioso nel sapere che quello che aveva sperato e proposto finalmente si stava realizzando grazie a quanti ci hanno creduto e continuano a farlo sarebbe stato con voi per mettere generosamente a disposizione con umiltà che contraddistingue i grandi uomini la sua competenza ringrazia da parte mia e della mia famiglia quanti penseranno ad Emilio e lo immagineranno come sempre dietro una macchina fotografica o una telecamera per raccogliere e cogliere le immagini migliori di ciò che la vita può offrire grazie Maria Rita Barone in carollo questo è l'ulteriore omaggio a Emilio che sicuramente ci guida dall'alto e è seduto accanto a Sergio Granata ma torniamo anche in questo caso con il sorriso scendiamo di categoria e direi tutto a pannaggio delle palermitane questo campionato di promozione Girole B c'è stata poca roba per le nostre messinesi però sicuramente abbiamo seguito in grande svolvero anche questo campionato e sono arrivati grandi risultati partiamo da colui che ha blindato in più di un'occasione la propria porta e ha dato la possibilità alla propria compagine di tagliare il traguardo per prima Mirko Demiere miglior portiere stagionale del Geraci arriva sul palco il baluardo della compagine geracese eccolo qua ciao Mirko complimenti un Mirko Demiere che doveva stare attento ad Antonino Cascione a Santiago Sendin ma alla fine la gente ha scelto Mirko Demiere perché ha scelto Mirko Demiere perché ha vinto il campionato o perché effettivamente è stato il migliore sicuramente perché ha vinto il campionato abbiamo fatto una stagione bellissima fin da subito abbiamo iniziato a vincere e non era non eravamo noi forse la squadra quella diciamo attrezzata fin dall'inizio a vincere il campionato abbiamo iniziato a vincere dalla prima giornata è merito del gruppo il nostro segreto è stato sempre il gruppo dall'inizio fino alla fine direi di sì ma voi come hai detto Duce c'erano squadre come l'Astra l'Aspra scusa l'Astra e c'erano squadre come il Gioiosa sicuramente costituire per fare un ottimo campionato anche l'Ascarice Falù voi siete partiti un po' in sordina ma spesso e volentieri partendo in sordina poi si raggiunge l'obiettivo e poi con un martello che avevate in panchina non potevate non riuscire a tagliare per primo il traguardo bene Mirko allora arrivano le ragazze per consegnarti la pergamena estremo di sicura fidabilità guida l'ermeticità della propria terza linea rivelandosi superlativo nel ruolo arriva anche del buon vino della ditta Scarpazza quindi ci sarà la possibilità di poter alzare un po' il gomito grazie Mirko e da quel che sappiamo forse non si rimane a Geraci probabilmente non inizieremo la nuova stagione a Geraci si sa nel calcio ci sono degli stimoli che vengono prima di qualsiasi altra cosa è arrivato il momento comunque di voltare pagina augurando comunque al Geraci una stagione comunque ricca di successi benissimo è probabile che rimarrai ugualmente in eccellenza dico solo questo grazie Mirko allora andiamo avanti e direi a proposito di altra squadra che facciamo tutto in diretta a proposito di un'altra squadra che ha vinto poi con l'ausilio dei playoff il campionato l'Astra l'Aspra che naturalmente ha vinto la finalissima contro la formazione trapanese ed è riuscita a giungere nel campionato di eccellenza non è presente l'Aspra stasera per problemi societari non è presente nemmeno il miglior difensore che è stato insegnito della palma di migliore ovvero Angelo D'Angelo che abbiamo conosciuto qualche anno fa che ha battuto la concorrenza di Rosario Chiazzese e Michele Volpini invece un bomber importante che dire che è un abitué e dire poco non soltanto è stato insegnito del ruolo di miglior attaccante ma ha vinto anche la classifica dei cannonieri e con noi Santo Salerno chi si rivede dopo tanto tempo Santo Salerno dopo un annetto ci rivediamo a distanza di solo che ci rivediamo con una novità però parliamo di quello che è successo da qui a da qui a qualche mese fa altra stagione strepitosa sicuramente la Castello Cese poteva fare qualcosa in più tu hai fatto il tuo vincendo la tua personale classifica dei cannonieri ma è stata ugualmente una stagione da incorniciare hai detto tutto tu Fabio è vero forse potevamo fare qualcosa in più ma sai benissimo durante l'arco di un campionato ci sono tante situazioni e purtroppo quest'anno le cose non sono andate per il verso giusto da dicembre in poi siamo andati a giocare fuori e quindi questo ha influito molto sul nostro rendimento ma alla fine siamo soddisfatti perché ci siamo classificati nella parte sinistra della classifica raggiungendo l'obiettivo che c'eravamo prefissati direi che hai fatto un un posto dove hai detto che hai chiuso la tua esperienza con la compagine della Castelluccese non diciamo dove andrai a giocare perché lo sappiamo solo io e te ancora è presto però direi che non è stato facile chiudere il tuo rapporto con la Castelluccese assolutamente no anche perché sono di Castell di Lucio e dopo cinque anni non è assolutamente facile però sai benissimo che per continuare a giocare c'è bisogno di stimoli nuovi e diciamo che ho preso questa decisione e allora abbattuto la concorrenza di Mirko Marrone e di Giovanni Sferruzza arrivano le ragazze e consegnano detonatore delle aree avversarie insaziabile Cecchino si riconferma spropositato re del gol quindi direi che è tanta roba arriva color cotto arriva la pergamena e arriva soprattutto anche il riconoscimento nella top 11 perché uno che si presenta sempre su questo palco deve essere per forza grazie e santo e in bocca al lupo per la nuova per la nuova esperienza una nuova esperienza dove è probabile che incontrerà tanti giovani ragazzi uno di questi che era in forza alla super giovane Castelbuono è stato insignito del ruolo di miglior under del campionato Cosimo Cardella arriva il ragazzo palermitano che ha battuto la concorrenza di Mattia Barbera e di Francesco Provenzale ciao Cosimo buonasera allora ottima esperienza tu vieni probabilmente dalla cantera del Villabate o mi sbaglio? con un'annata di retrocesso cioè da retrocesso da retrocesso non è stato facile infatti ringrazio il presidente il mister per la fiducia che mi hanno dato ma tu sicuramente quest'anno hai fatto più che bene ti sei trovato benissimo sicuramente a Castelbuono avete fatto una stagione straordinaria e soprattutto avete vinto anche la coppa quindi direi che a maggior ragione è stata una una stagione trionfale da incorniciare sì sì è un'emozione bellissima abbiamo alzato la coppa tutti insieme non è stato facile come ripeto c'erano squadre come Geraci Aspra ben formate per vincere il campionato noi siamo stati un po' la rivelazione del campionato siamo contenti di quello che abbiamo raggiunto io spesso e volentieri dicevo Alfa Illa non non passa lo straniero in più di un'occasione sei riusciti a vincere ritornano Giuliana e Fernanda per omaggiare Cosimo Cardella innate dodi tecniche già in teneretà catapultate in un contesto esigente diviene pedina impareggiabile il futuro è nelle sue mani arriva la Bergavena arriva il vino Cantina e Tripoli grazie Cosimo prossimo anno rimaniamo col presidente ancora da decidere però è probabile che il viaggio di ritorno porta buoni è probabile grazie Cosimo si danno il cambio perché come abbiamo detto non c'è il Geraci non c'è l'Aspra ma c'è la super giovane Castelbuono arriva il presidente che presidente Vaccaro squadra che ha vinto il campione ha vinto la coppa di promozione e quindi ritorna in eccellenza buonasera presidente Vaccaro buonasera a tutti il presidente Vaccaro nel momento in cui ha vinto la coppa era come un tento sì ma mi ha detto e ora comincia il bello bravo come hai detto tu adesso le iniziano i problemi comunque noi innanzitutto sono felice per quello per la stagione che abbiamo fatto quest'anno perché inizialmente nessuno pensava che era super giovane e poteva arrivare in finale e vincere la coppa perché per noi è stata una soddisfazione doppia perché nelle Madonie perché sono Madonita di Castelbuono mai nessuna società ha raggiunto questo obiettivo quindi questa è una cosa che rimarrà nella storia di Castelbuono nella storia Madonita e questa è una soddisfazione doppia poi è stato un successo inizialmente che ripeto nessuno ci credeva ma piano piano andando avanti nella competizione ci siamo guardati abbiamo detto ragazzi quasi siamo lì alla finale perché non provarci abbiamo fatto la finale di Modica bellissima con tanta gente di Castelbuono a seguito e la cosa più bella che io auguro a tutti di provare è alzare la coppa perché è una soddisfazione secondo me al pari di vincere un campionato benissimo e quindi arriva il riconoscimento arrivano le ragazze che consegneranno la pergamena allora ecco la meritata promozione alla fine di una cavalcata eclatante frutto di una compattezza di gruppo straordinaria arriva quindi color cotto arriva le cantine Tripoli grazie presidente sicuramente ci sarà una nuova guida tecnica avete già presentato mister Porretto abbiamo presentato mister Porretto io ringrazio qui pubblicamente anche il mister Amarandano per le due stagioni che abbiamo fatto insieme l'anno precedente perché ha guidato la squadra diciamo alla salvezza e quest'anno ha fatto il risultato secondo me eccezionale strevitoso vincendo la coppa e portando la squadra ai playoff purtroppo nel calcio si sa i rapporti si possono anche reinterrompere ma è così la stima rimane ugualmente sicuramente sì grazie a voi tutti la cosa certa è che i cignali saranno in eccellenza sicuramente e allora a proposito di allenatori chiamiamo sul palco l'allenatore considerato migliore del campionato di promozione Girone B è lui Gaetano Mirto allenatore del Geraci arriva mister Mirto che di promozioni ne ne in camera a Iosa ho l'impressione o no mister eh sì qualcuna l'abbiamo fatta qualcuna l'abbiamo fatta lo ricordiamo ai tempi del Due Torri per poco tempo però in ogni caso è sempre un mister che parla poco però parla sul capo perché i risultati come abbiamo detto arrivano è come se arrivano ma sì è stata una bella stagione molto entusiasmante abbiamo iniziato dalla prima all'ultima giornata da primi è stato bello condividerlo con dei ragazzi fantastici è una società importante e uno staff tecnico molto ma molto preparato i miei collaboratori io vi ho visti nelle prime partite contro il Joyosa mi avete fatto una grandissima impressione ma soprattutto mi hai fatto un'impressione tu perché telecomandavi i tuoi ragazzi con il tuo modo molto tranquillo e sereno ho detto sicuramente mister Mito farà una grande stagione con questi ragazzi e così è stato ma quando hai ragazzi importanti in squadra quando abbiamo uno presente che è serio che ti fanno la differenza è facile fare l'allenatore e allora Gaetano Mirto arrivano di nuovo le nostre belle ragazze abbiamo detto Gaetano Mirto professionista carismatico impartisce il suo credo plasmando una creatura perfetta suggellando una stagione incantevole epica color cotto e la pergamena grazie mister ripartiremo da Geraci probabilmente sì lo scopriremo il primo luglio grazie mister Geraci in tutte le salse e quindi chiudiamo proprio con il top in assoluto che è stato il top in assoluto ma soprattutto il miglior centrocampista di questa di questo campionato è lui Jack o Gioacchino serio eccolo qua Gioacchino serio altro calciatore di spessore ci siamo sentiti tantissimo in questa stagione perché essendo primi devi avere il peso delle dello stalking telefonico del sottoscritto però è stato sempre un piacere sei stato sempre disponibile e giusto premio a questa vittoria del Geraci e tua personale sì intanto ti ringrazio per l'invito e il riconoscimento ovviamente è un riconoscimento che condivido appieno con il paese Geraci che per me è una famiglia al di là di quello che sarà al di là di tutto la famiglia Geraci rimarrà sempre nel mio cuore e nei ricordi più belli da quando gioco è stata una cavalcata incredibile perché comunque dal primo giorno eravamo un cantiere aperto cantiere aperto gente che arrivava gente che andava via poi siamo stati bravi a rendere tutto più facile e poi da dicembre credo che sia stato un sosseguirsi di belle emozioni fino credo alla partita più bella Castelbuono 0-1 e si può dire automaticamente vittoria a campionato e direi di sì avete fatto una cavalcata incredibile ritorno le ragazze sul palco un professionista prestato ai dilettanti imprime il suo verbo all'interno del gruppo rivelandosi fenomenale arriva anche Color Cotto entri diritto nella top 11 e abbiamo già salutato il pubblico geracese perché ormai sui social si dice tutto ci sarà qualche altra nuova esperienza ma rimarrà sicuramente indelebile come hai detto tu questa stagione si rimarrà appunto indelebile è normale che leggo tutto anche al lavoro perché ovviamente poi nella vita si deve pensare anche ad altro a crescere tra virgolette il calcio rimane sempre una grande passione rimarrà sempre una grande passione finché avrò la condizione di di poter giocare lo farò spero di avvicinarmi a Palermo nel palermitano così da poter fare entrambe le cose ho l'impressione che devo fare anche la promozione gironiali prossimo anno grazie Jack buon rientro e chiudiamo anche questo campionato di promozione ritorniamo nel nostro Interland perché non è presente il presidente Morgana per vari impegni ma la delegazione di Barcellona è presente quindi chiamiamo sul palco il presidente Molino il presidente come lo chiamo io Buglisi e anche la signora Segreto accomodatevi tutte e quattro non dico il nome del signore però sono dimenticato di nuovo quindi a maggior ragione faccio un'altra brutta figura e spinella allora dicevamo dicevamo di un presidente Morgana che per impegni non è potuto essere presente qui con noi quindi è arrivato anche il suo saluto lo facciamo anche con il presidente Buglisi fresco fresco di premio al a Palermo ringrazio per l'invito un grandiale saluto a tutti in particolare al sindaco e complimenti per questa location io porto il saluto del presidente Morgana che ci teneva tanto ad essere qua ma come già lei sa questa sera nella zona delle Madonie si disputa la finale del torneo Madonie che è un torneo federale che si fa ai tempi storici e quindi non poteva mancare per le premiazioni ma sicuramente ha promesso che ci sarà nel futuro io vi ringrazio perché avete fatto tanto per questa nostra attività che è il calcio seguite settimanalmente tutti i campionati e quindi è una cosa importantissima perché rendete da quelle le persone che non possono andare a campo rendete ancora la partecipazione la fate sempre importantissima io posso dire questo che per quanto riguarda e approfitto di questo microfono per quanto riguarda il premio alla carriera che il presidente Morgana ha voluto assegnare alla mia persona io lo ringrazio da questo palco come l'ho ringraziato Avantieri perché nella vita diciamo uno ha fatto tanto per lo sport e poi all'ultimo ci diriamo io da circa 50 anni sono in questo sport penso una cosa che devo condividere questo premio alla carriera con mia moglie perché perché per 50 anni diciamo ha fatto sì che questo amore che io ho per il calcio lo potevo vivere tranquillamente perché ha condiviso con me questa passione e ritengo che la stessa cosa sarà per tutte le moglie le compagnie di quelle che fanno questa nostra io spero di arrivare a 50 anni come lei ancora sono io ho iniziato nel 68 con la polisportiva Ciappazzi poi dal 1981 nella federazione sportiva e via quindi come stavo dicendo le nostre moglie le nostre compagnie sicuramente sanno che noi amiamo questo calcio e quindi non fanno diciamo ci aiutano anche a andare avanti certo quindi io vi ringrazio veramente di questa possibilità grazie a lei un applauso per il premio alla carriera del presidente come lo chiamo io Bugliesi presidente Molino direi ampia soddisfazione per la delegazione di Barcellona per tutti i campionati perché sono stati stratosferici quest'anno sia dal massimo campionato regionale fino all'eco dei curie minori sicuramente innanzitutto grazie per l'invito buonasera a tutti io sono soddisfatto per i campionati che ho diciamo diretto che è gestito dalla delegazione di Barcellona dal settore giovanile alla terza categoria junioris calciacinque sono soddisfatto perché non sono succeduti incidenti non sono successi incidenti e noi dalla delegazione guardiamo solo esclusivamente la classifica disciplina per noi il fair play è abbastanza importante partiamo dalle squadre minore perché si parte anche chi è in eccellenza è partito dalla terza categoria dal settore giovanile per arrivare all'eccellenza quindi la base per me è importante la formazione per quanto riguarda le scuole calcio possiamo dire che la delegazione sta lavorando bene grazie a tutti i collaboratori che si impegnano giornalmente ci tengo a precisare che il nostro è volontariato solo per questo non possiamo svolgere altre attività e allora arriva il riconoscimento per la federazione di barcellona arriva il color cotto inutile fare la pergamena cosa dovevo scrivere missione compiuta quindi direi che è questo il riconoscimento che si prego signor sindaco ritorni in sul palchetto signor sindaco il cagliardetto della nostra delegazione quindi il territorio di raccua che fa parte diciamo della delegazione di barcellona quest'anno ha fatto il campionato di calcio a 5 con l'augurio che possa fare pure il calcio a 11 di terza categoria questo è il nostro simbolo grazie benissimo un ringraziamento anche una spilletta quindi direi volevo solo ricordare che era il 2021 eravamo al porto di Capodorlando è stata la mia prima esperienza nella duplice veste all'interno della manifestazione c'è il presidente Morgana avevamo preso un impegno come amministrazione di far ripartire il calcio a Racuia e da due anni con un sostegno della nostra dell'amministrazione abbiamo dato ancora più forza l'attività della CDR Racuia che in questi due campionati di calcio a 5 ha fatto bene i ragazzi si sono divertiti e impegnati speriamo che chissà magari il prossimo anno non si possa arrivare anche a qualcosa di diverso grazie 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 a voi grazie a a tutta la delegazione di Barcellona per quanto fatto in questa stagione ritorniamo al calcio giocato e le squadre che si sono contraddistinte e dopo tantissimo tempo cercata voluta e raggiunta la squadra dell'Aquila ritorna in promozione arriva tutto l'entourage Rao o facciamo il sorteggio allora arriva il patron e uno dei figli dai magari il calciatore Carmelo dai Aquila vincitrice del campionato di prima categoria Girone D direi un un Aquila che ci ha provato in tutte le salse in questi anni questa volta invece caro presidente ce l'abbiamo fatta ed ora comincia il bello lo so diciamo già è la terza volta che noi andiamo in promozione dopo 12 anni 11 anni anzi ci siamo di nuovo riusciti perché io non vi avevo mai trovato in promozione quindi è l'undicesimo anno gli ultimi 5 anni siamo stati là per là tipo è un tiro di schioppo io dico sempre che il campionato si vince sempre all'ultimo minuto all'ultima partita l'ho sempre detto non sono un sacca che mi dico siamo grandi siamo qua siamo là si gioca partita per partita è così l'anno scorso se l'hai visto l'hai visto abbiamo perso l'ultima partita in casa contro il Liberi vincevamo 1-0 certo abbiamo pareggiato 1-1 allora appunto per questo il suo mister ogni lunedì mi diceva Fabio si deciderà tu ultimo all'ultimo secondo dell'ultima partita quindi era un disco che avete registrato io ti voglio dire solo questo che l'anno scorso anno avevo detto dopo quella delusione veramente volevo uscirmene non saperne più del calcio grazie qua a mio figlio e ai miei figli che ho dentro abbiamo cambiato tutto abbiamo cambiato stemma abbiamo cambiato colore no però sempre quelli abbiamo cambiato allenatore mister staff giocatori i risultati sono arrivati sono arrivati grazie a Dio e allora arriva Giuliana e arriva anche Fernanda sognata da tanto tempo diventa realtà grazie alla programmazione certosina dell'intero ambiente biancorosso grazie complimenti all'Aquila e alla famiglia Rao che ancora una volta ha messo al servizio della comunità questa passione arriva arrivano i riconoscimenti individuali e partiamo dalla categoria under il miglior under del campionato non fa parte dell'Aquila c'è stato un ragazzo che era in diciamo in lotta ma alla fine l'ha spuntata un giovane interessante della nuova rinascita Patti Mattia Spinella arriva sul palco classe 2006 se non vado errato ora ci darà la conferma quando arriverà Mattia Spinella Reduce ciao Mattia sicuramente una traversata dallo stretto perché stai tornando da un torneo dalla Calabria se non erro com'è andata? siamo usciti però una bella esperienza abbiamo vinto un paio di partite un paio l'abbiamo perso siamo usciti l'ultima partita abbiamo perso un gol un po' così abbiamo perso 1-0 però è stata una stagione trionfale per te personalmente anche per la nuova rinascita che è riuscita a vincere questo campionato vincere il campionato con l'ausilio dei playoff ma sicuramente ha messo in mostra tanti giovani tanti giovani pattesi tra questi è emerso Mattia Spinella e quindi direi c'è da essere soddisfatti sì sì sono molto soddisfatto avevamo una squadra molto giovane e siamo riusciti a salire in promozione anche se non era cioè l'intento era di fare i playoff all'inizio del campionato siamo partiti male abbiamo perso le prime tre partite però poi siamo riusciti a non perdere per 24 partite di fila quindi siamo tutti soddisfatti anche io soprattutto per questo premio e infatti arriva subito il premio perché arriva il riconoscimento la motivazione figlio d'arte interpreta al meglio il ruolo come un veterano divenendo essenziale nel gruppo squadra giovane di bella speranza in ottica futura e direi che entri di diritto nella dream team top 11 Emily e arriva anche questo riconoscimento quindi hai un 2006 giusto come ho detto io quindi hai un futuro davanti ti do un consiglio ascolta poco quell'amico che abbiamo in comune va bene Mattia Spinella nuova rinascita proseguiamo il nostro giro con il miglior allenatore di questo campionato perché se il presidente Rao poco fa ha detto ho cambiato tutto ha trovato probabilmente il tecnico che alla fine gli ha dato la possibilità di poter ritornare in promozione Nico Caragliano Nico Caragliano che batte il 5 a Massimiliano Spinella che insieme a Calogero Vicario è entrato in lizza per la vittoria finale ma al photo finish in genere si dice chi vince ha sempre ragione ciao buonasera a tutti allora Nico doppia soddisfazione ha cambiato tecnico il presidente è subito è arrivata questa promozione per te è arrivato anche questo riconoscimento personale ma soprattutto è un lavoro che viene fatto a 360 gradi e so quanto sei maniacale e meticoloso tu si diciamo quest'anno appena ho iniziato mi sono prefissato un obiettivo quello di non passare per il charlatano perché quando ho fatto l'accordo col presidente ho stretto la mano e ho detto quest'anno vinciamo il campionato quindi per evitare che ti passare per il charlatano mi sono creato una pressione mia personale per rendere meglio e motivare più possibile la squadra questo premio da condividere con la società che non ci ha fatto mancare niente quest'anno perché non si vince da soli l'allenatore dirige dei giocatori e io ho avuto dei giocatori esemplari per tutto l'anno ma deve essere supportata una società importante e quella bafia ce l'ha poi condivido con i giocatori ho detto che si sono comportati in maniera esemplare e poi voglio condividere questo premio con chi ho toto del tempo cioè non porto mai a mio figlio e mia moglie in queste manifestazioni qui l'ho voluta portare perché ho toto del tempo a loro e questo premio lo voglio condividere soprattutto con loro perché ho toto veramente tempo per lavorare per la cura bafia il sabato la domenica non c'è un giorno libero e quindi questo premio voglio condividere anche con loro bravo Nico mi associo perché io sono nella stessa barca perché è normale che mi supporta e mi sopporta anche mia moglie allora Nico Caragliano innovativo maniacale indiscusso motivatore del gruppo plasma una squadra la sua immagine e somiglianza riportandola nel suo habitat di competenza premio individuale color cotto sempre presente e quindi Nico Caragliano che riparte con l'Aquila giusto? dovrei sì il presidente ha trovato l'allenatore vincente penso proprio che lo benissimo e allora buon lavoro grazie Nico abbiamo parlato della nuova rinascita abbiamo parlato dell'Aquila bafia e direi che il miglior giocatore in assoluto è stato considerato un giocatore del città di Galati che addirittura è stato un ottimo cecchino pure quindi capo cannoniere ma questo premio lo dovrà dividere con altri due però il miglior giocatore in assoluto del campionato arriva ed è Antonino Frisenda del città di Galati buonasera Antonino Frisenda che sembra un veterano ma è un classe 99 ieri sera quando ho visto io il tuo anno di nasce ho detto ma è mai possibile così esperto eppure è un 99 allora doppia soddisfazione è mancata la cilicina sulla torta della promozione anche se c'è la possibilità credo che si possa fare ugualmente il campionato di promozione da quel che si dice sì soddisfazione personale da condividere con i miei compagni perché abbiamo fatto una cavalcata straordinaria purtroppo abbiamo lottato fino all'ultimo per cercare di vincere il campionato Bavia e poi i playoff nuova rinascita sono arrivati prima di noi certo sicuramente un'amarezza per non essere riusciti a raggiungere l'obiettivo di squadra però sotto l'aspetto personale direi che ti puoi ritenere soddisfatto sì sì sotto l'aspetto 16 gol credo in campionato e soprattutto essere insegnato del ruolo di migliore in assoluto è tanta roba grazie e allora Antonino Frisenda prezioso talento al servizio della causa blu giallo rossa veicolo con la sua classe un gruppo di giovani ad un passo dal sogno arriva la pergamena per Antonino Frisenda e arrivano anche due belle bottiglie di Epica uno dei nostri partners commerciali ecco arrivano un applauso ad Antonino Frisenda anche capocannoniere a proposito di capocannoniere ha dovuto dividere lo scettro di re del bomber con un altro suo compagno di squadra e di reparto Davide Vicario che arriva sul palco altro figlio d'arte eccolo qua Davide Vicario figlio d'arte suo padre il tecnico della squadra del città di Galati ma sicuramente un giocatore che soprattutto nella prima parte del campionato hai fatto più che bene con tantissimi gol poi c'è stato un periodo di flessione perché soprattutto nel girone di ritorno in trasferta avete perso qualche punto di troppo e questo è il motivo per cui non siete riusciti a vincere il campionato però credo che sei tu possa essere soddisfatto del tuo personale percorso sì sì sono soddisfatto in merito dei miei compagni comunque tutti questi gol in merito dei miei compagni il giornale di andata è andato molto bene infatti l'abbiamo vinto noi il giorno di andata abbiamo vinto il campione di inverno il giorno di ritorno credo ci siamo rilassati un pochino troppo ci siamo sentiti arrivati non abbiamo dato il meglio di noi è probabile che magari la troppa giovanetà dei ragazzi abbia influito probabilmente nel momento cruciale della stagione sì sì abbiamo peccato di un'esperienza soprattutto ma ci servirà da base per l'anno prossimo benissimo quindi già idee chiare per Davide Vicario arriva la pergamena di Giuliana leggiamo la motivazione attaccante moderno e di prospettiva trascine il proprio sodalizio ad un passo dal sogno grazie al suo stato di grazia sotto porta bravo Davide complimenti un futuro sicuramente davanti a te classe abbiamo detto duemila e tre e allora abbiamo parlato di questi campionati di prima categoria girone c'è anche l'altro girone l'altro aggruppamento che lo abbiamo visto marginalmente ma due squadre in questo caso hanno fatto man bassa del campionato perché se nel girone di promozione ci sono state le palermitane in grande spolvero invece qua non ce n'è stata per nessuno due squadre messinese hanno trionfato la prima a tagliare il traguardo è stato il rosmarino e quindi abbiamo la possibilità di avere eccoli qua abbiamo il presidente il patron accogliamoli con un applauso rosmarino squadra vincitrice del campionato di prima categoria girone c buonasera a tutti il presidente Tomasi e Castrovinci buonasera buonasera allora una cavalcata mettiamoci qua in mezzo perché altrimenti mi sgridano e non troppo allora presidente presidente allenatore sì tutte e due cose tutte e due cose allestita una squadra per sbaragliare la concorrenza e così è stato e addirittura rumors dicono che devono stare attenti in promozione perché state facendo una campagna qui si è già abbastanza sontuosa ma chiudiamo questa stagione diciamo che abbiamo costruito una squadra fin dall'inizio per puntare a vincere il campionato penso che siamo stati in vetta dal primo giorno fino alla fine e sono orgoglioso sia della squadra che di tutta la società e dell'ambiente patron chiamiamolo così patron Castro Vinci una bella esperienza quella che abbiamo fatto però non eravamo soli io devo fare i complimenti all'altra compagine che è quella della Lontina persone splendide dirigenza veramente spettacolare come la nostra abbiamo fatto un campionato non indifferente infatti volevo ricordare ci sono state due partite molto importanti dove abbiamo registrato sia in casa nostra che in casa loro un pubblico spettacolare oltre categorie forse alla prima c'ero anch'io forse purtroppo non possiamo noi disputare le nostre partite il nostro campionato all'interno del nostro complesso sportivo a Mitello Rosmarino siamo a Roccati Capileone ospiti però con il nuovo insediamento dell'amministrazione comunale della quale faccio anche parte stiamo tentando con un finanziamento che è già stato preso dalla vecchia amministrazione di portare quello che è un attimino un calcio diverso a Mitello Rosmarino con la costruzione del nuovo impianto sportivo speriamo di fare un buon lavoro anche per l'anno prossimo non ci montiamo la testa perché comunque è la nostra prima esperienza in promozione quindi dire una salvezza è difficile quando presenti determinati giocatori però stiamo con i piedi per terra cerchiamo di fare un campionato o hai detto tutto tu io dico un solo nome diciamo se faccio questo nome la gente dice ma come parlano di salvezza Gianno Saro Iuculano che se come Luca Figarotta comincia a giocare a pallone le può vincere da solo le gare ma poi arriva anche Tindaro Calabrese e penso proprio che in queste categorie sembra è più di un totem quindi parlare di salvezza si allunga il naso non è facile ho detto al ministro l'altro ieri in un'intervista che lui ha fatto parlare di salvezza non è facile però purtroppo non abbiamo le capacità per quanto riguarda le esperienze in questa nuova categoria di poter ipotizzare determinati risultati però abbiamo già ristablito una coppia Iuculano Calabrese ringrazio Iuculano che ci ha fatto compagnia questa sera qui accanto a noi non è voluto salire sul palco però lo voglio ringraziare per lo splendido campionato che ha fatto speriamo di fare un buon campionato facciamo salire sul palco Giuliana e Fernanda preventivata e raggiunta alla fine di un percorso meraviglioso è perfetto voto alto a tutto l'ambiente color cotto per il presidente allenatore e per il padrone la pergamena vi ringrazio grazie grazie e buon campionato naturalmente di promozione in grande spolvero le messinesi di Torno speriamo di avere tutto un campionato di messinesi e chiudiamo con l'altra squadra che ha fatto compagnia a Rosmarino li vedo abbastanza sorridenti Emanuele Molici c'è il direttore la Lontina senza l'ausilio dei playoff raggiunge anch'essa la compagine di San Marco d'Alunzio la promozione accogliamovi con un applauso la Lontina buonasera a tutti ciao Fabio arriva Monici è arrivato il lieto evento? ancora no ancora no attendo la chiamata attendi la chiamata quindi ci dobbiamo sbrigare allora abbiamo detto di un Rosmarino che ha fatto una stagione strepitosa perché voi non avete fatto da meno senso di appartenenza anche dalle vostre parti avete raccolto più Aluntini possibili avete incastrato i tasselli giusti e alla fine il risultato è stato una vittoria non del campionato ma sicuramente non avete patito i playoff innanzitutto ringrazio la dirigenza del Rosmarino è stato un campionato stupendo direi storico anche perché la Luntina per la prima volta arriva in pronunzione dopo 50 anni quasi 50 anni di storia sicuramente il ringraziamento ha un lavoro fatto dallo staff tecnico dirigenziale dei tifosi che ci hanno supportato sempre è stata una festa incredibile e far gioire sicuramente anche i più piccoli i bimbi è stata davvero un'emozione incredibile intanto facciamo salire le ragazze e poi faremo chiusare il tutto al direttore allora cavalcata costruita prettamente in casa e raggiunta con pieno merito punto di partenza per sbalordire anche in sesta serie arriva anche color cotto fresco di premio come miglior dirigente chiusiamo questa stagione direi c'è da essere soddisfatti sì grazie grazie dell'emito ha detto tutto il presidente allora tu ci vuoi dire qual è il primo rinforzo di questa squadra per la prossima stagione intanto abbiamo il nostro tecnico l'abbiamo riconfermato quindi avete riconfermato anche Gioitta qualche colpo in canna lo possiamo dire oppure gli facciamo aspettare il primo luglio ancora lo dobbiamo fare benissimo e allora state lavorando sotto traccia grazie Emanuele grazie un applauso alla compagine della Lontina e come consuetudine siamo in addirittura d'arrivo io vorrei chiamare qui sul palco i miei più stretti collaboratori a cominciare da Peppe Maniscalco che deve salire sul palco c'è Paolo Munafo c'è Marila Re c'è anche Calà c'è Scurria c'è Lucio Volo tutti qua c'è Gaetano Bongiovanni dovete venire tutti qua per chiudere al meglio non so se dimentico qualcuno è il sindaco naturalmente che anche lui sotto la veste di amico di questa di questa trasmissione Danilo vieni mi sembra che ci siamo tutti mi dimentico di qualcuno Billet è andato via intanto ho avuto questa bella sorpresa perché Paolo Munafo mi aveva fatto in extremis è arrivato allora io inizierei velocissimo tanto ormai un minuto faccio tutto io una piccola domandina a tutti e poi abbiamo 30 secondi ciascuno intanto il ringraziamento va a tutti per questa bellissima serata ma il ringraziamento va a tutte queste persone che durante il corso dell'anno oltre mia moglie mi hanno sopportato e supportato e per il raggiungimento di determinati obiettivi sicuramente c'è bisogno della sinergia di tutte le componenti noi sicuramente siamo un gruppo affiatato e qualsiasi occasione parliamo discutiamo e raggiungiamo il tutto perché tra di noi c'è una stima reciproca Peppe Maniscalco il lunedì io sto più con lui che con mia moglie ed è una giornata faticosa ma bellissima però ti dico grazie ti dico grazie Peppe per quello che fai tutte le grafiche che sono passate durante il corso della stagione in quest'anno sono tutto merito tuo e quindi direi grazie ti do 30 secondi per dire sai che è un piacere solo questo devo dire e poi ringraziamo il grande capo che è messo là in ginocchio a fare le fotografie hai visto quindi e questa è un'altra Salvatore Calà è un collaboratore esterno ci sentiamo spesso e volentieri ma sicuramente fa parte di questo mondo e direi che è stata un'altra stagione bella con le nostre squadre che si sono ben comportate quelle del comprensore quindi c'è da essere fiduciosi per il prossimo anno sì intanto ringraziamo soprattutto questa location stasera è qualcosa di unico mi è piaciuto molto quello che avete fatto che è oltre a riguardare Sergio Granata io con Sergio ecco magari intanto lo sanno abbiamo iniziato assieme tantissimi anni fa con lui abbiamo iniziato assieme a fare calcio a fare sport e poi anche Emilio Carullo questa è una cosa perché conoscevo personalmente quindi è molto bella ti dico grazie a te per quello che fai ecco sei uno dei pochi che rimane a fare questo tipo di lavoro in questo senso ecco ringraziare premiare dare anche soddisfazione e il lavoro di tante persone durante l'anno noi scriviamo il Cosco per la Gazzetta ormai da 34 anni però penso che questo sia una cosa importantissima dare merito a chi si spende per il calcio partendo dai vertici a chi poi come diciamo sempre sta dietro le quinte quindi grazie a te e grazie a chi anche in questo momento ci sta riprendendo anche loro fanno tanto per il nostro lavoro grazie allora tu hai parlato di quelli che ci riprendono naturalmente non possono abbandonare le telecamere ma Fabio Colombo Franchina al service c'è Sebastiano Leone c'è Pippo Ricciardo il regia c'è anche Gino Trovato e sicuramente sono delle persone che lavorano tantissimo ma chi lavora più di me è questo signore a cui passerò il microfono mi ha fatto questa bella sorpresa di essere presenti mi aveva detto che non c'era però Paolo Monafo 3MTV sapete tutti non lo scopriamo questa sera il lavoro che fa lui è incomiabile e sicuramente noi siamo insimbiosi perché abbiamo la stessa passione come hai detto tu e il merito se portiamo avanti e facciamo diamo lusso a queste categorie anche no soprattutto anche di Paolo che vi dico solo che fa 7-8 servizi a domenica sera e non riesce nemmeno a mangiare però non si vede però non si vede hai detto bene poi alla fine noi lo facciamo soprattutto per passione perché settimanalmente siamo impegnati con i nostri lavori e poi siccome non ci piace stare fermi quindi il sabato e la domenica ci mettiamo anche a fare le partite lo facciamo con passione e credo che nel nostro piccolo proviamo a portare in alto queste società a dare un po' di lustro perché poi il calcio genuino è questo quello dei dilettanti e quindi è importante che venga promozionato solo questo direi un grosso applauso a tutta la tutta 3MTV io sabato domenica e lunedì vado da Antenna del Mediterraneo e poi martedì mi sposto a Santo Stefano di Gramassa e grazie alla delegazione di Barcellona ho dei rapporti con questo signore che è un gigante buono perché è incommiabile il suo lavoro Lucio Volo sicuramente oltre che un collega e soprattutto un amico sicuramente al di là dello sport che c'è comune della passione poi ci sono i rapporti che si sono instaurati e quindi tutto diventa sempre più facile e lo facciamo con passione bypassiamo qualsiasi difficoltà pur di riuscire a portare avanti i nostri obiettivi e penso che i risultati sono sotto gli occhi di tutti sono sotto gli occhi di tutti e non soltanto noi che siamo in televisione possiamo dire ma anche in radio ascoltate spesso e volentieri Danilo Scuria che è sicuramente un altro addetto ai lavori è stata una bella stagione di Castellumberto lavori per Radio Dimensione Dimensione Radio e quindi direi una stagione splendida e un grazie anche a te sicuramente è stata una stagione splendida ci auguriamo che a settembre ne inizio un'altra con la speranza che ci siano possiamo dire ci sia un'altra annata piena di soddisfazione per tutte le squadre che parteciperà nei tornei dilettantistici io se ripartirò il prossimo anno non posso prescindere da questo signore perché tutte le domeniche li passiamo assieme e quindi Gaetano lo so che sei di poche parole tu però è un ringraziamento anche a te e ne approfitto per farlo davanti a tutti i telespettatori grazie Fabio e grazie a tutti passiamo delle belle domeniche nonostante a me il calcio non interessi molto però faccio del mio meglio benissimo grazie Gaetano altro gigante buono e direi che stiamo chiudendo in bellezza perché voi dovete sapere per chi non lo sa che quando io ho iniziato la mia compagna di viaggio era Marilare poi per vari impegni abbiamo mollato però sicuramente abbiamo trascorso degli anni bellissimi con il compianto Emilio però sicuramente partiva da Santo Stefano di Camassa per venire qua a registrare nei brodi in campo quindi direi già merito un applauso solo per questo Marila perché è una grande professionista e soprattutto ha giocato a calcio ed è soprattutto una sportiva e avevamo una bella sinergia Sì buonasera sono visibilmente emozionata poc'anzi non so chi dei due ha ricordato dove registravamo la trasmissione e quando sono arrivata ho guardato quel posto dove c'era Emilio però al di là di Emilio e quindi dell'emozione che ci sta io sindaco devo ringraziare la comunità di Racuia perché non mi sono mai sentita estranea non ho mai pagato un caffè non ho mai avuto nessun tipo di problema né a parcheggiare la macchina e ogni volta che arrivavo a Santo Stefano c'erano 50 telefonate per chiedermi come stavo se avevo bisogno di qualcosa e non sono mai scese a mani vuote quindi chapeau una comunità che mi ha accolto di grandissima generosità quindi lo dico alla comunità e a tutti e a chi la rappresenta ma la forza sei tu poi la politica mi ha distratto ma spero di tornare a dare una mano a questo territorio e allo sport perché al di là delle appartenenze politiche o partitiche che sia una squadra o che sia una categoria più ci riconosciamo come territorio più riusciamo a vincere non tanto i campionati ma proprio le sfide importanti perché il calcio in questo momento e in questa realtà è sopravvivenza grazie a te che non solo ti preoccupi di tutti ma fai sempre di tutto perché ognuno abbia il suo posto quindi riesci a costruire questo puzzle nonostante il protagonista sia tu fai sempre di tutto perché ognuno si senta nel suo piccolo protagonista quanto te grazie Marila allora chiude il sindaco perché è normale che siamo ospiti tuoi e quindi a maggior ragione bisogna aiutere questa serata poi la chiuderemo sul palco rimarremo io e le due ragazze prima di lasciare il microfono a te voglio ringraziare anche tutti i partners commerciali che hanno abbracciato il progetto quest'anno della tribuna sportiva in Ebro di Incampo quindi in modo capillare a tutti un ringraziamento particolare perché anche grazie alla loro partecipazione possiamo essere qui stasera a omaggiare tutte queste squadre allora sindaco e questo collaboratore di Fabio e di Nebro di Incampo principalmente penso di chiudere come collaboratore in questo momento perché averti a fianco insieme a Marila veramente è stato un tuffo nel passato un tuffo a quelle domeniche a quei lunedì lunghissimi perché il montaggio prima che arriva a Sant'Ena del Mediterraneo di una puntata durava 10 ore e 12 ore da lì è partito tutto voglio ricordare e salutare l'amico Andrea Gaudio perché lui insieme a noi a Emilio è stato protagonista ricordo l'emozione della prima volta che in quella stanza Emilio ci ha fatto vedere il primo jingle la prima sigla di Nebro di Incampo eravamo tutti emozionati sono passati tanti anni ma tu continui a portare avanti quella forza incredibile che ci ha spinto tanti anni fa a iniziare questa avventura per il resto da sindaco non posso che ringraziarti per aver scelto questa location e soprattutto ringraziare tutti i tuoi ospiti che sono venuti oggi nella nostra comunità grazie quindi un applauso a tutti grazie a tutti e grazie a tutti i tecnici e allora potete accomodarvi perché io il mio valletto se fa arrivare sul palco senza nulla le due mie compagne di viaggio di questa serata poi mi porterai due omaggi che abbiamo dato a queste due ragazze che hanno parlato poco fateglielo sentire la vostra voce almeno non dite nulla ma almeno un saluto salve a tutti e allora Fernando e Giuliana meritano un applauso sicuramente e il mio amico Lucio consegna due piccoli riconoscimenti anche per voi quindi ecco questo è il allora direi che a questo punto siamo in addirittura d'arrivo ringrazio anche le forze dell'ordine la polizia municipale per quanto fatto ringrazio tutti i presenti tutte le associazioni che sono stati presenti qui qualche amico che è venuto anche da Messina senza fare senza fare nome che è stato veramente importante anche per questa per questa Kermess il prossimo anno sicuramente non so se ritorneremo qui a Racuia ma ci ritorneremo tra qualche stagione grazie a tutti grazie Antenna Mediterraneo vive il calcio ci vediamo a settembre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti